Shakespeare ha detto ogni volta che lo riterrai opportuno accendi un sogno e lascialo bruciare in te e così anche per voi? Sì, se per sogno si intende una fede e se per opportuno si intende quando l'evoluzione ci permette di sognare. Noi infatti vi ripetiamo che chi ha una fede qualunque essa sia evolve molto di più di chi non ha nessuna fede. Grazie per la visione!